Bella ragazzi, 3 partite in team ad Erangel con 3 vittorie, 16 kill nella prima, 15 nella seconda, 13 nella terza. Non perdetevi questo video per andare a vedere i momenti più belli. Primo match, scendiamo a Pocicchi. Non ce ne stanno, ce ne stanno. Sono gli 1, 5, 4, vedi? No, stavo passando pure un'altra a destra. Non ti ha abbracciato, eh? Vabbè, c'è qui, eh? Va, è brutta una canata, eh? Sì, vuota la mamma. Mi va a stirare la roba. Ma dove stanno? Io non vedo nessuno, sto pure sul tetto. Lei dice, la diavo da qua. Mi va a fa' il culo. È incredibile. Sento passi, stanno qui dentro. Sono, sono, sono. Cosa ne dite voi? Dove stanno in questa canata, sì? Sono brutto, volevo buttare la muro, Tom. Sono là, stanno. Scendete, scendete. Ma io sto sparando al cazzo. Ma io sto sparando al cazzo, vai, continua a sparare al cazzo. C'è stato un altro. Ma che cazzo, è la svolta, è la svolta. Venga a salvare io. Enemies ahead. Enemies ahead. Salve, io. Salve, io, se salve. Salve, io mi faccio prima, grazie. Poi, io ho più progettivo. Pernando. Enemies ahead. Oh, se salve. Mi faccio, mi faccio, mi faccio, mi faccio, mi faccio, mi faccio. Oh, no. No, no, no. Ma va, 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 va. Ok. Help. No, ma che cazzo. Ma quello che uccidì, io, ah. Un grus. Ma sempre io. Madonna mia. Poi quel socio di Fernando ci salva sempre. Porca Madonna. Madonna, è muscolato. Guarda che quello stronzo, ma non ti c***o, la buemba. Il c***o di merda. Guarda che stronzo di merda. Guarda che si è preso a me, un pezzo di merda. Io, quando mi uccisi io. Guarda che stronzo. Grazie a Don Predio per la buemba e l'ottopè. Chi faceva fuori? Tu sei... Guarda Fox che non fa un c***o. Guarda per dare il tre. Ecco l'unico sound di me che si è preso l'etro. Da sta l'etro. E non te coglioni con questa buona di c***o. Ma lo sto coperto, ma che è? Dai, il c***o di merda che c'è Fernando. E buttiamo il granate a c***o. Ma lo buttavo io. Ma che c***o è? Aspetta, vado a vedere Fernando. Oh, merda. A questo punto... Vediamo se Fox lo fanno. C'è Fox, ce l'hai davanti? E' un c***o di c***o. Non lo vanno. Pino da c***o. Hola, grande. Ciao. Grande. Bravi, dai. Grandi, grandi, grandi. Grazie. Ho fatto un c***o. Grazie. 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 Comunque ho fatto quattro bici. Buona. Secondo match. Scendiamo a George Bull. Ed ecco una macchina buggatissima. Scendiamo a George Bull. Scendiamo a George Bull. Toccato. Enemies ahead. I got supplies. Uno ti viene con me, Raul. Noi andiamo, però non mi rido. Sono gli altri c***o. toccato. Noi andiamo. siamo iniziali adesso, andiamo bloccati lo apro io ho cato uno lo sta curando uno è un'occasione, lo sta curando, aspettavo ad apparlo ragazzi, uno è sale l'ho fatto l'avevo buttato la granata no, la granata, la commozione, scusa stanno tutti qua dentro ok, verna guarda 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 Anima è inizia 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 Questa partita l'ho passata curando e facendomi curare ragazzi No c'è da una via. Sì, sì, sì. Terzo match, si scende subito e si cerca un'auto per spostarci a destra della base militare. Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì.